Cosa voglio dire alle squadre avversarie? Iniziare ad avere paura. Il principio è un richiamo. Un segnale d'attesa che dà il via all'avventura. Qui entra in gioco la forza. L'istinto per la sopravvivenza. Un respiro unico per tutto il braccio. La tensione è palpabile. Come il vento. Un battito animale ha un minuto dallo scontro. Si parte. Muoversi per farcela. E sapere a cosa si va incontro. Lottare in ogni momento. Con una zampata vincente. Sì! È un mostro! È un mostro! Essere i più veloci. Per stabilire il proprio destino. Preda o predatore. È la legge della natura. Sono in tanti a partire. Ma solo uno arriverà. Dio città. Ma solo una zampata vincente. Sì! È una zampata vincente. È un mostro! È un mostro! Grazie a tutti.